Dopo pochi giorni dalla riapertura degli istituti scolastici torna l'allarme Covid tra i banchi di scuola in Irpinia. Domicella, Tripalda, Rotondi e Montefredani, i primi comuni a fari conti con la DAD. Ora tocca anche al capoluogo. Un caso di positività è stato registrato al liceo Mancini, dove si è contagiata una studentessa in via precauzionale. L'intera classe è finita in quarantena e continuerà le lezioni a distanza. Siamo in attesa del provvedimento dell'ASL che definisce la quarantena per il contatto degli altri compagni di classe in dipendenza anche del loro stato di vaccinazione o meno. Per il resto, ad eccezioni di questo caso, una prima settimana come è andata? All'esterno noto che spesso gli alunni, i ragazzi in giro, non portano molto le mascherine. Questo all'interno della scuola invece è obbligatorio e devo dire che non ho avuto criticità segnalate dai professori. Quindi stanno a scuola sereni, tranquilli, indossano le loro mascherine. Certo sono molti, quindi adesso stiamo aspettando anche il discorso dei trasporti. Proprio ieri nell'area antistante il liceo di Via dei Concili ha fatto tappa il camper della salute al fine di incrementare la percentuale di vaccinati tra gli studenti. Molti di loro fortunatamente sono già vaccinati e quindi i pochi che hanno aderito e che ancora non erano vaccinati accompagnati dai loro genitori hanno poi provveduto ieri mattina. Intanto non hanno toccato la categoria dei medici cinque provvedimenti di sospensione dal servizio emanati nei confronti di altrettanti operatori sanitari del Moscati. A Taurasi si piange il decesso di un 76enne che era ricoverato all'ospedale Frangipane.